Anche questa settimana finisce con oggi, 12 aprile 2019, venerdì. Abbiamo Adderall, da minuto 0 al minuto 10, un miglio di corsa e poi Max Clean & Jerk. Da minuto 10 al minuto 13 riposo, da minuto 13 al minuto 20, 800 metri di corsa e Max Power Snatch. Da minuto 20 al minuto 23 ancora una volta riposo e dal minuto 23 al minuto 27, 400 metri di corsa e Max Trusters. Sulla grafica i pesi e le scalature è tutto per questa settimana, ci vediamo lunedì, buon weekend a tutti!